ho appena trovato adesso adesso subito guardate ho aperto questo qua adesso quindi andiamo subito a provarlo e vediamo com'è io c'ho il livello 1 quindi penso che farlo schifo però a me piace un botto abbassimo raga perchè è così e abbassimo comunque iscrivetevi al canale di michi337 che ho fatto un nuovo canale mi raccomando a tutti 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 iscrivetevi e non fate like ai suoi video perchè lui è un grande è il mio migliore amico e quindi non è manco male è bello è bellissimo ah ma passa attraverso oh vabbè raga tutti e due sono i sommati zero coppe ah si vero perchè è zero sapete che ho già zero coppe vabbè si ci devo fare un'altra partita raga perchè qui ci vediamo e poi andremo a provarlo in tutte le altre modalità a parte in in ride perchè in quella tocca aspettare il weekend e comunque ci farò un altro video in cui faremo un altro unboxing perchè è facilissimo fare con quello ma mi cioè ho notato adesso che cazzo un altro aspetta non ci vedo quando rispondo aiuto ho no l'aiuto non ci vedo il e è chi se aspetta non ci vedo ma mi piace ma è ovvio che sta felice perchè è diventato a pensare la cosa bella è che tu tiri il corpo e ti passa per dire attraverso i muri ti ritorni e va attraverso i muri però la fila ruona un po' quello è veramente troppo fin molto 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 carino devo dire molto più anche se a livello 1 ho metto un po' vinto con 13 più 9 bella ci sta buono buonissimo allora ci vedremo con una bella raffa gemme c'era jigs orcio aspetta imitiamo orcio signori orcio orciolin orciolin sta reggis atterrando perfetto ciao youtube è mezza pronto vediamo un po' cosa va si ho trovato carlo adesso adesso so orcio l'ho vabbè non avete più signori non scrivi che mi è ande orcio ti prego cioè piro feto piro feto let's uncover the mystery of history no 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 andiamo a farlo contro Carlo dai Carlo vuoi far Carlo contro Carlo? ma non mi ha preso oh ti fusi non ho capito capito? ti direi di fare a raffaggiarmi perchè se no ho ricercato rapino rapino più forte ha rapinato ha rapino quante coppie ha? ne ha più di me perchè ha fatto 219 coppie con con lui e io ne ho fatte questa qua 62 secondi più forte all'ultimo Pierro va bene non me ne frega può poi andare ok quindi mettiamo pronto raff 있잖아요 come? vamos oggi non mi sa che non ho chiunque bisogna fare la screen quindi andiamo a farlo Questa map è molto carina, a me piace. Bene, ce l'hanno fatto pure il cuore, carlo, 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 ma che maggior tema, io sono fortissimo e io non voglio parlare, che potrebbe essere bravamo, che dovrebbe passa in un modo di passare, come normale a me piace Ma è molto caro, ma è ffficiente, come tanto per mày, che cosa, quello di più è Ok. non 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 l'abbiamo perso di questa presa diciamo che fa quindi andiamo a farci questa rapina no ho sbagliato e sbagliato vabbè ragazzi facciamo io fatti il testo con il capello sbagliato vai oh no non so 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 tagli per la una cosa fa non so no la rompe che fu che fu Il primo è molto più forte di Carla Noi siamo già Lui però si può offrire qualcosa Però il primo Ma il mio amore Si può soccorritare O che è un amore L'ha preso Ehi Gioosh, come un'olica. Come, come un'olica. Come, come. come si va insieme e non c'è prova che è tardi non è che devi buttare i soldi i doblani calma doblano ok raga perso anche questo perchè io ho un furacino non è che cosa è che ci faceva danno io sono bravo solo l'arrof e gemmi, saprovivenza e football, footbrowl, non sono bravo in assedio, hanno sobravo anche in rise, però non sono bravo in due denti, sono la capilla l'arrof è morta, perché distruggerò le foglie di l'arrof. perché la profina ti beviva la profina non è diventata non è che ci sia mamma 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 che cosa che mi puoi ragazzi è scarso perché non vanno io so che ti voglio che ti vanno in davanti vanno c'è un figlio in me no si è morto che si è morto cammina un po' è morto la già è bombardazzo bombardilla 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 è morto è morto è morto media è morto e giuclian è morto abbesa se questo è certo stiamo andando a posto muovendo l'oro siamo ancora al grado 1 dopo 40 mila partite l'ultima che ti manca assedio ma non domani uscirà il video dopo domani domani uscirà il video su questo però se io faccio proprio schifo di quello schifo schifoso ora lo facciamo adesso lo faccio da cassa e dopo che si conclude il video perché si è che forno oh per me a per me tattesita ferma no ma ragazzi il gesto il gesto no amore a rubatino 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 vabbè lo lana lalo in lori 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 cara utta cara lu cara cara landed hello talk eh Michael Christie E no, perché rompe? Non è perché, perché rompe? Perché? Ah, ma si è... Eh, vabbè, allora... Partito è concluso. Che ho detto? Io faccio scherzo. Carlo è un Carlo poi... Lui è bravo Carlo. Perfetto, perfetto. Spero che si raccomanda. Che video, ciao!